Musica In questo numero, ciclo di convegni sul cuore alla Clinica Mediterranea di Napoli. I medici legali, con la legge Balduzzi, chirurghi alla merced dei giudici. Studio USA, stiletti killer per il ginocchio, a rischio osteoartrite. Grano saraceno e mela in top 10 dei cibi detox. Tumori, terra dei fuochi, nel libro Monnezza di Stato, tutte le verità. Il vero o falso di questa settimana parla di ipertensione arteriosa. E per concludere le news scelte per voi dalla redazione. Le più moderne e innovative strategie di trattamento della patologia valvolare aortica, in uno dei luoghi con la maggiore tradizione sulle cure cardiovascolari. Si è aperto a Napoli il ciclo di convegni Mediterranean Cardiac Surgery Symposia, organizzato dalla Clinica Mediterranea. Struttura che, come ricorda l'amministratore delegato Celeste Condorelli, ha a disposizione 60 posti letto di alta specialistica del cuore, di cui 12 di terapia intensiva e 18 di subintensiva. È terza in Italia per numero di prestazioni e prima in termini di esiti secondo i dati dell'Agenzia Sanitaria Nazionale. La serie di appuntamenti di dibattito e confronto tra i massimi esperti della materia è stata organizzata in occasione del traforzamento dell'equipe medica della Clinica Mediterranea con l'arrivo a capo del centro cuore di Luigi Chiariello, cardiochirurgo di fama internazionale, celebre per aver operato il papo merito Benedetto XVI nel 2013. L'obiettivo è quello di fare un centro di eccellenza di cardiochirurgia, uno dei centri leader in Italia di cardio di cuore, quindi nel suo aspetto cardiologico, come già una forte tradizione anche in quello cardiochirurgico, in tutte le branche della cardiologia in genere e non solo quindi a livello clinico, ma sviluppando anche la ricerca e la formazione. Di particolare rilevanza il confronto sui trattamenti della patologia valvolare a ortica. Purtroppo la stenosi valvolare a ortica spesso colpisce persone di 85-90 anni, quindi molto al di là con gli anni, che magari non hanno nessun'altra patologia. In queste persone molto anziane o che hanno anche altre patologie, attualmente è possibile offrire un'alternativa, che è il trattamento per cutaneo, cioè l'impianto della protesi, non aprendo il torace, ma entrando nel cuore attraverso l'arteria femorale. C'è la possibilità, mediante cateteri e device appositamente disegnati negli anni 90, che permettono di impiantare praticamente una valvola dentro la valvola nativa o dentro una protesi valvolare già impiantata, senza dover correre alla circolazione extracorporea, che è mandatoria per questi tipi di interventi, tanto meno di eseguire gli interventi attraverso l'apertura del torace. In primo piano anche la prevenzione, ma quanto è importante per la cardiochirurgia? La prevenzione è uno degli aspetti più importanti della cardiologia in genere. Ci occupiamo prevalentemente della terapia chirurgica, della cardiopia, quanti fatti sono già avvenuti, però non trascuriamo nei programmi generali di un centro cuore anche quelli che sono gli indirizzi di prevenzione proprio per evitare o perlomeno rimandare i problemi delle malattie cardiovascolari. Anche con il massimo rispetto delle linee guida dei protocolli di prevenzione e sicurezza, il medico rischia oggi di essere condannato per errori non dovuti alla propria responsabilità, ponendolo di fatto alla merce del magistrato. E nei casi in cui non ci sia un evento avverso e acclarato, il medico chirurgo oggi rischia l'ergastolo. È il monito lanciato a Roma da Remo Orsetti, medico legale e direttore del Dipartimento di Anestesia, Rianimazione e Terapia Intensiva dell'ospedale San Camillo Forlanini, in occasione di un convegno sui rischi cardiaci in chirurgia. Non conosco due magistrati che abbiano la stessa interpretazione della legge Balduzzi perché la normativa non è chiara, aggiunge il medico legale Natale Mario Di Luca, professore ordinario all'Università La Sapienza di Roma. Sono un'arma di seduzione, ma gli stiletti rischiano di non colpire soltanto l'attenzione del proprio partner, trasformandosi in pericolosi killer della cartilagine delle ginocchia femminili. È l'allarme lanciato da un team di scienziati statunitensi. Ogni volta che una donna indossa un paio di tacchi vertiginosi, esercita un pericoloso livello di pressione sulle sue articolazioni. Tutto attacco non sono solo i piedi, le caviglie o la schiena, ma anche le ginocchia. Il rischio in agguato avvertono è l'oste artrite, la distruzione della cartilagine, una condizione dalla quale non si torna indietro. E per le donne con qualche chilo di troppo, il danno è anche peggiore. Un'allarme condiviso dagli specialisti del Bel Paese. Non verrò amato da molte ascoltatrici quando dirò che il tacco sopra il 12 è un insulto alla natura e alla meccanica, per cui camminare in punta dei piedi può andar bene per una serata con l'uomo della tua vita, ma forse per tutta una vita porterà inevitabilmente allo sviluppo di un alluce valgo e di un sovraccarico metatarsale. Grano saraceno, mela, carciofo e avogado. Sono questi i primi alimenti della top 10 dei cibi detox secondo Valérie Orsoni, coach francese ed esperta in alimentazione fitness, ideatrice del metodo Le Boot Camp, a Roma per presentare la sua strategia tagliachili descritta in La dieta Le Boot Camp. Prima è importante capire perché amo detox. Quello che bisogna comprendere è che questi alimenti che disintossicano realmente tolgono le tossine dal nostro corpo e al primo posto io metterei sicuramente le mele perché le mele aiutano a togliere i metalli pesanti dal corpo ed è una cosa molto importante e quindi quelle almeno tre volte al giorno. Poi i carciofi, l'aglio, le prugne, il grano saraceno, il tofu, le banane, ce ne sono tanti, molti più di dieci. Di questi alimenti bisogna mangiarne almeno cinque al giorno. Esce in libreria Monnezza di Stato il racconto del disastro ambientale, sanitario e sociale che ha sconvolto buona parte della regione Campania trasformandola nella terra dei fuochi. A firmarla a due mani l'oncologo Antonio Giordano che da anni denuncia e danni alla salute dello sversamento illegale dei rifiuti e il giornalista Paolo Chiariello. Noi nel libro diamo anche dei suggerimenti come riuscire a riparare questo grande stupro che ha subito la Campania. Dal libro viene fuori anche un altro messaggio importante che è quello che la terra dei fuochi non è solo Campania ma esistono più terre di fuochi purtroppo anche nel resto d'Italia. I politici si devono finalmente rimboccare le maniche devono fare un mea culpa perché sono proprio loro insieme a un'imprenditoria così poco illuminata ad aver provocato questo danno enorme sull'ambiente e le popolazioni che vivono in quell'ambiente. quindi guardandoli in maniera positiva sono proprio loro che devono realmente trovare la soluzione e finalmente agire per risolvere quello che hanno creato negli ultimi 40 anni. È vero che chi fa sport non può soffrire di ipertensione arteriosa? No, è falso. Chi fa sport può avere di ipertensione arteriosa anzi ci sono alcune diciamo tipologie di sport soprattutto sport di gran fatica e anaerobici che possono associarsi a un'elevazione cronica della pressione arteriosa. È vero che l'ipertensione arteriosa è un problema più maschile? È falso. Era vero fino a qualche tempo fa ma con il cambio demografico e l'allungamento della vita soprattutto nella donna il periodo post-menopo passo più lungo è diventato falso. Avere il colesterolo alto è un fattore di rischio per l'ipertensione arteriosa? È falso anche se l'ipercolesterolemia e l'ipertensione molto spesso si associano. Avere il colesterolo HDL, quello buono, elevato, causa l'ipertensione? È falso il colesterolo HDL elevato è considerato un fattore protettivo anche se mancano dati che dimostrino il contrario cioè che aumentando il colesterolo HDL riducano gli eventi cardiovascolari e comunque questo c'entra poco con il rischio legato all'ipertensione. Assumere integratori a base di acidi grassi omega 3 e 6 aiuta a prevenire l'ipertensione? No, è falso. Perlomeno non ci sono dimostrazioni a riguardo. Non trattata l'ipertensione arteriosa può portare a conseguenze molto gravi? L'ipertensione non trattata può portare a conseguenze gravissime che vanno appunto dall'infarto del miocardio all'ictus cerebrale con a volte gravi fenomeni legati alla qualità di vita e anche alla motilità del paziente alle funzioni vitali del paziente e poi nel tempo anche lo scompenso cardiaco e la fibrillazione atriale che sono delle tipiche conseguenze dell'ipertensione. È vero che si può guarire dall'ipertensione arteriosa? Sì, ci sono delle forme di ipertensione cosiddetta secondaria che riconoscono una causa eliminata la causa questa determina spesso una guarigione della malattia. I test d'ingresso per la Facoltà di Medicina torneranno a svolgersi a settembre presumibilmente nella prima decade tramonta quindi l'esperimento fatto lo scorso anno d'aprile è auspicabile che i test siano anticipati da una preparazione più mirata alle prove che gli atenei si sono detti disponibili a organizzare ha affermato il Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca Stefania Gennini in audizione alle commissioni riunite culture e affari sociali della Camera sugli orientamenti del Governo in materia di accesso ai corsi di laurea alle scuole di specializzazione in medicina. La pillola da sola non basta più specialmente perché ormai senza il telefonino non vive come la maggior parte degli italiani quasi il 50% dei connazionali sarebbe interessato all'uso di supporti digitali da affiancare alla propria terapia farmacologica e il 40% si dichiara particolarmente interessato all'impiego di app sul proprio smartphone. A tracciare il quadro è un analista della Manhattan Research società di analisi e consulenza finanziaria che ha raccolto i dati relativi al nostro paese. E le Big Pharma sanno che il futuro è digital sono molte quelle che nel corso dell'ultimo anno hanno stretto alleanze con giganti della tecnologia per prodotti o servizi che vadano appunto oltre le pillole a beneficio di medici e pazienti. Il Quirinale porta bene almeno a giudicare da un dato la longevità degli inquilini che si sono succeduti al Colle. Età media quasi 88 anni e mezzo con diversi capi di Stato che hanno superato i 90 praticamente la metà del totale. Anche alcuni come Gronchi e Pertini nati a fine 800 quando l'aspettativa di vita era ben più bassa di quella odierna circa 40 anni contro gli 80 anni degli anni 2000. Sarà per gli auguri di rito di lunga vita al Presidente che accompagnano le elezioni di un capo di Stato sarà per l'aria salutare che forse si respira al Quirinale fatto sta che finora i dati anagrafici sembrano confermare un noto aforisma secondo cui il potere logora chi non ce l'ha attribuita ad un altro politico noto per la sua longevità Giulio Andreotti morto a 94 anni. Senatore a vita come lo diventano di diritto anche i Presidenti della Repubblica e come lo è stato il premio Nobel Rita Levi Montalcini che si è spenta a ben 103 anni. Aumenta il numero dei bambini iperobesi solo negli USA in 14 anni sono passati dal 13% al 17%. Arrivano anche ad ritaglia le prime linee guida internazionali per la chirurgia dell'obesità in ambito pediatrico redatte da un comitato di 12 esperti dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma sono pubblicate sul Journal of Pediatric Gastroenterology e Nutrition. Sarà quindi possibile ricorrere alla strategia chirurgica per la riduzione dell'obesità nei bambini adottando criteri univoci e riconosciuti della comunità scientifica internazionale. Dopo l'allarme vaccini antinfluenza in molti hanno disertato l'appuntamento con l'immunizzazione. Ora però l'influenza sta iniziando a colpire e molte ASL stanno prolungando la campagna vaccinale invitando i cittadini a immunizzarsi. Sono d'accordo l'anno scorso ricorda il ministro della salute Beatrice Lorenzin sono morte 8000 persone per motivi collaterali all'influenza e quest'anno prosegue gli esperti mi dicono che l'influenza sarà severa. E' importante soprattutto per i soggetti a rischio sottolinea il ministro ricorrere alla vaccinazione naturalmente sempre su consiglio del medico. Dobbiamo dire no alla psicosi antivaccini anche perché questi sono un pilastro della prevenzione. La paralisi dei pronto soccorso che in questi giorni ha interessato le strutture ospedaliere di tutta Italia ha una causa fondamentale l'impossibilità di ricoverare tempestivamente i pazienti per carenza dei posti letto. L'incremento degli accessi legati all'influenza e alla maggiore fragilità della popolazione nel suo complesso non è quindi la causa principale del sovraffollamento. A denunciarlo è la Società Italiana della Medicina di Emergenza Urgenza. Quando non è più possibile aumentarne il numero la Simeu suggerisce di assicurare almeno una distribuzione dei posti letto tra i diversi ospedali e tra le diverse aree di ciascuna struttura che corrisponda e fa bisogno di salute della popolazione. Questa era la nostra ultima notizia per contattarci potete scrivere a salute chiocciola a dncronos.com Grazie per averci seguito e alla prossima puntata. Grazie per aver guardato